Sì, Iemo! Veloci, veloci, vai, vai! Come si stappa questo? Tu lo sai come si stappa? I bicchieri ce li abbiamo sotto? Eh? Bicchieri! No, non c'è uno bicchieri, Cristo! Porca Dio se... Vabbè, che gli fa io? Nienti che il cuore è la figa! 90 secondi! 30! Aspetta che fanno prendere fuori attiviso! Sì, sì! Pilla, pilla, pilla! Io, io, io! Io, 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 io... Dime quando è... 30 secondi! 30 secondi! 19, 18, 17, 16, 15 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Buon anno! Buon anno raga! Buongiorno a tutti, auguri, che hai detto? Che trovi? Guarda là, vieni qua e arrivi, guarda io, auguri, 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 vieni qua sulla strada e arrivi, come hai riuscito? Come è, riuscito a mettere un gelo ben moglie, dai, auguri, buon anno! Vieni qua, Lamberjack, qua, qua, dopo accendiamo, vieni, vieni! Auguri, auguri, buon anno! Ciao! Ciao! Buon anno! Amuri! Amuri, Matteo, amuri, ciao a te! Come è che non ho mai avuto accendere questo? Esselo, esselo, oddio, che vuoi accendere adesso? Sì, sì, assolutamente! Ma tu sei matto, porca di amico? Ma io, ma che senti? Ma metto la strada, dove c'è? Se lo cazzo? Ma sul prato? Lì, sull'olto! Che piatto! Lì, la, 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 la! Chi c'è? Ma devo capire come cazzo! Ecco, non c'è la famiglia! Daga madonna! Cazzo! Cazzo! Sicuro che... sei sicuro? Sì, sì! Allora, io vado via, eh! Aspetta un po', non è pericoloso, no! No, Cristo! Eccolo! Vado, eh! Porca madonna, non è pericoloso questo? Questo no, no, questo sì! E i razzi come vedi adesso? Quelli che vedi adesso? Vili adesso, porca troia! Quelli che vedi adesso? Sì! Vado, eh! Io scappuio, eh! Oh, col Dio! Eccolo, eccolo! Oh, col Dio! Vado, io! Oh, col Dio! Oh, col Dio! Guadagno! Mamma! Amori! Vedi un po', addio Cristo che ti va sulla testa? Ma te, ce ne ne andami due del così! Eh, ma io seguo pure che mi va sulla testa, eh! Porca madonna! Ce ne andami due del così! e indostri viene dentro la terra però io io l'ambergecchi rivene qua stiamo accendendo i fuochi con la stiamo accendendo i fuochi sta l'ambergecchi l'artificiere la è una madonna ha portato pure gli fuochi artifici ma guarda che io quando andavamo a Bergamo porco dio a spara per la festa durava un'ora e mezza di fuochi diciamo noi ma che stai cercare qualcuno per la vittima Enri? che stai cercare qualcuno per fare la vittima? come fa la vittima? è un buon ambergecchi non è che si spara su una mano porco dio vedi un po vedi si è guarda sulla mano infatti eh secondo me ah ma c'è ora la camicia guarda no? oh porca troia raga auguri auguri a tutti ragazzi un capodanno che si è mai fatto? no mai mai in compagnia di tre persone da Cristo si è mostrato si 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 auguri raga auguri che vuol dire che non te ne parte? si è cesa la miccia? la miccia si è cesa? porco dio come no? ci vai? vado a prendere un secchio d'acqua e ce l'ho avuto sopra come non parte? non parte bisogna chiamare i bombieri? no ma che bombieri? basta solo un sacco d'acqua porco diablo che è? che era questa? questa è una bomba carter? oddio eh sarebbe bella forte eh? una bomba pum il fucile fa così forte? io mi rimanere io sti soldi eh? io mi rimanere io sti soldi eh? io mi rimanere io sti soldi eh lo so manco io arrivi guarda io non ci spendo una lira manco io senti che botta? questi ogni spargo è 40 euro minimo eh? ogni roba che parte è 40 euro eh? guardate quando siamo sparati in Bergamo le bombe sono così grossi di due così grossi? eh piazzati 5600 tubi di questi così da forti? ma la donna grossi eh? queste trappolette vedi manco si vede questi quelli rumeni li sta giustando casa i rumeni? questi qua questi qua eh no non so rumeni il re eh le case popolari queste si le case popolari però ci sta no non c'è nessuno il re sulle case popolari e voti? ci voti? ci voti voti ma che rumeni il re? guarda che sta la rumeni ecco la c'era una cenna si si auguri ragazzi auguri ah pure io il re eh si stanno andando a ienti stanno massando le mani per terra ah si? con i fuori di artificio ah si anche lì ragazzi adesso ecco 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 c'è c'è le trappolette però eh andiamo alle trappolette se mi la vado sulla testa qualche panora oddio sei tu guarda qua che sei? finito se parte bene se no lascia perdere c'è stato anche che ci ha provato la casa mia con la madonna sul tetto sarà madonna risultato ad e si il primo capodanno che passi di primo capodanno che passi così si è passato con una donna niente ma mai una volta su un night sito farica 700 euro una sera niente cucinato per 150 persone gli ha passato le persone gli ha passato l'omagna gli passava la porta d'oro la porta d'oro gli si è passato 700 euro dio camberge che la cesta la signora fai ciao babbo c'è stato abominciato c'è stata ciao vincenzo auguri e non fai niente è da buio ti muoio se volete gestire questi buon anno babbo grazie buon anno vincenzo buon anno c'è questa pure l'amberjack babbo eccolo eccolo poi ci sono molto semplici questi qui le classiche candele quelle ah io non mi fido però ti piace sparare questi? eh ma semplicissimi questi Anna madonna devi sparare tu dio questo è semplicissimo questo è una buona che mi calco sotto Anna madonna ne ho uno singolo eh non è di che ce ne ho tutti quanti ne ho uno singolo eh lo so uno singolo lo so ma sulle ma si tiene? si si sicuro? si sulle ma no guarda eh tendo un rì guarda un po' e qui rispondi verso là faccia voglia ecco ma le pugnette ma rì com'è? pare lì e rì pare le pugnette si metto? ma le pugnette ahahah vieni è lungo questo si questo è più lungo ma non ci piace io ci voglio però pure io è semplicissimo basta solo con i primi ci siamo quando si spara c'è un minimo di rinculo ma proprio niente di? di rinculo che ti porta la mano verso là io fammi ci provo a me come io tu tieni un po' il tuo cellulare ci provo io vieni sto accendo? no eh si spero tu cazzo sta adesso no io sto sempre lontano che c'ho paura io no verso le piante eh eh ma senti senti quello e poi lo tiro lontano eccolo lo tieni lontano e poi spara da solo rigardio è una strontata questa Oh Dio oddio oddio fai come su su quals lega si fa rai a vada cadavra vingarmi un leviosa incendio ex peliermus no è finito è finito vado a fangulo ti è piaciuto questo questo mi sa che quello più caruccio topi allenando ma te poter ha cliccato vaffangulo to gira gira ma quale sono le magie e vingar di un leviosa vada cadavra incendio ex peliermus pietrifico satanus questo carino pietrifico satanus vanno fai che esplode si no se limitati se limitati a vada cadavra a vada cadavra vingar di un leviosa a vada cadavra 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 Scruccio! 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 È polvere quella sicura. No, no, questi è quelli ancora da usare. E' semplicissimo, non ne devi fare niente, non ne devi fare niente. Porco demoni. No, ne ho fatto uno io. Questo è questo a me. Dammelo, e porco demoni. Chi cazzo ha fatto? Hai vista l'asta? Ah, quest'anno molto meno ha sparato. Che scherzi, vedi? Sì, no, ma era normale. Era abbastanza obbio. Eh. Grazie, babbo. Oh, fermi. Esperto padrono. Eh, bravo, bravo, bravo. Siamo mangiato bene. E' una madonna. Io, eccolo. No, stasera. Guarda, affanculo! Stop! Magli di stu cazzo! Stop! Buon anno, Sandi! Buon anno! Buon anno, buon anno! Guarda, queste le pignette, Henry. Queste le pignette veramente. Guarda. Oh, oh, oh. No, che fai? Un'utilizzazione di me, porca madonna. Dove l'hai? Questo fa una brutta fine. Oh, porco Dio. Questo non è venuto bene. Ritendo, eh. Non è venuto bene questo. Vedete, vedete. Tieniamo giù lo buro. Perché fai? Lo lasci, porca madonna. E vabbè, quando finisce... Perché me lo faccio tutto sulle mani? Fa le svappate. Adesso aspettiamo qualche secondo perché non mi fido. Vedo il film che è finito. Questo non mi ha costato. Questo è proprio... Questo non mi ha costato. Ma vedi un po'. Capodanno in ospedale, porca troia. Addio. Ciao, babbo. Ci sei già quanti... Auguri, auguri a tutti. Auguri. Auguri. Ma dove va la cenda a Capodanno? Dai. Ah, ci tirate qualche gomma, Dio. A Capodanno in giro, dai, a festeggiare, mamma mia. Che tristezza, porca Eva. Mettetevi un dito in culo, con la vita vi sorriderà. Si. Ah, 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 ah. Io lo dito in culo, la posso calcare quella la che si è venuta a casa tua? Quelli campanelli cinesi. Adesso c'è una voglia, devo... C'è una voglia, Rì? Devo una, adesso... Si, ti piace? Che gli faresti, Rì? Adesso come adesso, proprio... Tutto, Rì? Quello che vuole. I piedi, lunassi, tutto, tutto. Tutto, tutto. Pure i piedi? Anche le froce lunassi che tappò. No, faccio vedere, eh? No, tu che sta, tu che sta? Faccio dritto quando ci va dritto, quando ci va dritto. Anche d'accordo da un bacco. E questo è... I cinesi, vedi, i cinesi fanno gli sparicurti. Perché c'è la curta... No, ragazzi, le froce del naso è tipo le... Le... Le narici del naso. si dice così però le froce non è una cosa bannabile detto significa le froce dell'unasso è l'unasso io dico l'unasso le narici dell'unasso affermo di giordia di più spara che scherzi Enrico invece dice le froce dell'unasso vero? ecco, ah no, mi sembra che era no, è true madonna, ma poi si capodanno, tu ti va via guarda, vedi, uh, va vuole valere attendo, 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 attendo passa la macchina aggiori donna, uh porco Dio, questo ha tirato una caginata o dentro? no, 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 che fai porco Dio ma vedi un po', ma perché non levi dalle mani? no, no, non porco Dio porco Dio porco Dio lambergecca, puttana, quella aveva tira dalla Madonna porco Dio, che fai? non lascia dalle mani ma che cazzo me ne frega meglio che esplodere le mani due che la faccio mia grazie a cazzo oh no, Henry Dio, cani basta così, posto abbiamo sparato a posto finiti? sì, sì, no, nel massimo di 3-4 ma lascio perdere sì, sì, basta, basta allora, Henry andiamo a stappare lo spumante? andiamo a stappare lo spumante anzi, sai che ti dico adesso, ce l'hai un secchietto o qualcosa, Marte? qua? vieni, ci prendo un secchio d'acqua e ci ritorni che se non è non è più ah, che puoi provare e dici o ti fai se non è così o esploda il ritardo e se non ci rimane per schiaffo le mani porco Dio porca Madonna, porca Dio porca Madonna la deve fuggire? qualcuno è morto, ma c'è oh, ma che è morto? non lo so ha tirato una fucilata questa era un fuggire no, no, questa è veramente una botta di fuggire ce l'hai un po' cosa era una botta di fuggire? ti riempi mi sa che qualcuno ha sparato la moglie andi un po' che cazzo dici? non lo so cazzo, era una botta di fuggire? no, non li conosco io oh, ti lasciate la porta aperta porca Eva che cazzo dici? no, bocca di Dobby porco Dio e dopo stanotte ci hai dormito con i dovi porca puttana di quella Madonna troia di Dio quella puttana della Madonna porco Dio porco Dio porco Dio porco Dio si entra pure sopra sta aperto porco Dio portana della Madonna porco Dio no, porco Dio chiudi un po' porco Dio per favore chiudi chiudi no, chiudi quella quella porca Madonna non mi manda su non mi manda su eh porco Dio l'altra volta è mandato tanto bene è boccato Henry eccolo lì eccolo lì eccolo lì ma tu c'hai paura Henry? io tu sei tornato pieno forte sono già qua io sono da sera Gioio ma sai sonato? un pochetto tipo? con domani? no tu soni però sonato qui su oh Dio sai che era? no me è morì me è morì? eh non la conosco sì ma capito 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 e risonare in casa se fissi una poluzione ma c'è la tassiera a casa io elitronica pure lo pianoforte se suonare mettete seduto Henry ma se c'è stata una cosa che non si fa Henry mettete seduto lì c'è lo sgavello allora abbiamo qui il grande maestro embo embo suonare se c'è il bellacqua ce l'hai la lì capito come come ho la lì 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 Sì, è bella, sì, arrivi, ma cazzo, ma tu stai suonando? Eh, adesso non c'ho... C'ho le mani freddi, prima di tutto, poi è un po' stornato, è un po' stornato, è un po' stornato forte, ma cazzo, tutti i cuori che sta a fare qua in giata, sì, sì, tutti i cuori, no, vabbè, tutti i cuori. Sì, sì, tutti i cuori. Sì, sì, tutti i cuori. Sì, sì, tutti i cuori che sta a fare in giata, questi? Mamma mia! L'uomo dalle mille... Si fa tutto! Mamma mia! Si fa tutto! Sai cucinare sul lato piano, scopi le donne, ci manca qualcosa? Niente! Oh, porco di... Quello che ci manca, quello che ci manca è frumattivo! Ti manca solo le materiali, poi finire anche le tappe! Oh, Cristo Dio, non ci posso creere! Madonna! Questa sera è diversa, capito? Sì, è diverso? Eh, la versione elettronica, tu non devi... Premi, non devi... Tu prendi un cucivolo, la sera? Sì, sì, fai... Sì, sì, va bene, va bene, va bene. E che cazzo lo sapeva? E quindi fai quelli che se no... Dei ribatti invece... Quello che sbatti, sì, sì... Sì, sì, che stai sbatti, sì... Ma che altro ha un po' suoni? Mi sono mai stupi? Ma che ci lo sapevi? Senti? Eh, lo so, Senti, lo so! Buon anno a tutti! No, vabbè... Cazzo lì! No, vabbè... Cazzo lì, mi fai mozzare... Ma da quando, Senti? Eh? Oh, è una vita, c'avevo 12 anni... Ma ci ce lo sapevi? No! Eh, con la tastiera doppia, io c'ho la tastiera doppia a casa elettronica, eh! Se non si è fermato così, Lucio! Lucio, 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 eh, lo so! Non si è fermato male, come! Ma la femmina questa era? No! Eh... Avanti a casa mia... Quante belle un primo amore! Eh, ma non è bello un primo amore! Lucio... Questo è l'applausi, questo è l'applausi! Che bello! Ah, è proverso lì! Proverso lì! Proverso lì! Ah, è proverso lì! mamma mia no ma non ci aspettavo che non ci aspettavo nessuno però una volta che mi vengono a casa allora con quello ti faccio sentire c'hai i miei vini, c'hai le trumbe, c'hai la madonna non lo sapevi? no, non lo sapevi? no, devi tenere per muto il belale destro per muto il belale destro, quello del resto, quello giù no, non lo sapevi? no, non l'ai reglia con la che sapevi? no, non l'ai reglia bene no 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 Ehi, suonate, suonate. Eh, lo so, suonate, suonate il pianoforte, se è rì? Eh, più di meno, più di meno. Ma, più di meno, più di meno, più di meno. Sì, 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 una madonna, rì, che roba! Ma io non pensavo che rì. Io a casa mi ci metto con le tue, scuante, scuante. Dove? Do sta l'ambergetta? Allora, qua. La bella bevuta e poi la tombola. E' in chat? Bravissimo, non pensavo, sta piangendo. Qua. Allora. Sì, pure a me, in compagnia. Buon anno, Re, grazie. Grazie, Re. Grazie, Re. Grazie, ragazzi, questa serata. Anche io, Re, anche io. Grazie. Pensavo io, quando venivate da Milano, porco Dio, chiamavo la polizia. Stai a piangere, Re. Come si fa qua? C'hai due noi. Devo sponare. Ha detto, porco Dio, no. Forse fai qui, su. No. No, lo volete a buttare. No. Lo volete a buttare, vanno a scappare. No. Sì. No. Come? Deve girarlo verso l'alto. Deve, 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 deve. Devi svitare verso l'alto. Fai la fontana, eh. La fontana è il giro. Buon anno. Oh, citti, porca me. E io non ho mai nato. E poi, sta finì, sta finì. Porco. Oh, 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 ora l'ho, porco. Amore. Buon anno. Oh, fai. Sì, ci ha fatto la lobba. Eh sì. Tu cazzi, io non muovo. Amore, hai fatto. Ci lo. Ma la fa pure. Allora, due, due le bicchieri serviremo. No, tre, anzi, sopra. Allora, tesoro. La fai? Sì, come sapete qua? No, non si può. Allora, scappare. Sì, tiriamo indietro. Aguri, ragazzi, auguri, ragazzi, auguri. No, no. Non vuoi? No, non mi piace. Ma neanche per bagnare la, però neanche? No, sui bicchieri sì. Allora ti prendi due tre bicchieri. Sì, sì, prendi due tre bicchieri. Ma non ne ho mai bevuto in vita mia, però... Ma neanche per bagnare la buona dell'ex mia. Oh, a me, di una verità, Matteo, mi hai fatto inizia che le siete lasciate. Tu sai, il cuore di un altro? Cioè, pure a me, però non gliel'è so far mettere l'accordo. Capisce, piace, per fischi. E' anche dico. Eh, Napoli, Napoli, mi scarafone bella mamma. E' una bella temperatura. Preci? Ma voglia? Oggi si sta bene, Napoli? Non sembra manco l'inverno. Eh? Tu fai fin da domatina? Non hai bello? No. Io sì, voglia. Sì? Oh, poi facciamo una tombola, due, tre tombolate. Mamma mia, me ne ho più di là che vuole la tombola. Non me. Ma voglia? Ma sei sicuro che se qua ti piace un po' di nomi? Io? Ma tu, io mi metto. Ma tu mi metti. No. E che c'è qua? No. Vuole vedere il rico qua? E' qua, Erick. Alla salute, ragazzi, buon anno. No, vediamo. Guarda, mi è nata. Auguri. Alla salute. Alla salute, ragazzi. Alla salute, ragazzi. Alla salute, giacattata. Alla salute. Aguri, ragazzi. Aguri. Aguri. Oh, Dio. È il dolbito. Non piace. Ti piace? Sì, non piace di solito queste qui. Ah, questi costa dove? Oddio, è dolzissimo. Costa dove l'ho avuto io, questo, sicuro? Sì, perché ho messo, effettivamente, non è che sta più buona. Ma che cazzo è sta roba? Ma che te? È troppo dolce. È dolcissimo. Se no, di solito, molto, molto. Però è una cacata, questo. A me non mi piace. Dentro Paolo, è fastidio. Io che di solito lo bevo raramente, questo lo bevo per il figlio. Ma lo fa schifo, guarda bene, è di porca madonna. No, no, non bevi per il ragazzo. Ma io non bevo mai, ma non glielo faccio, veramente, le fa schifo. È troppa schifo, ragazzi, veramente. Non si butta via, però. Non si butta via niente, ma questo, raga, è... Anzi, adesso ti devo chiedere. Bagno vuoi? No, prima lo latte. Ah, no, no, non tanto, niente, dai. No, non lo fai via.